Panza, nuove adesioni per nuove strategie, una riunione ieri pomeriggio del Comitato per aprire le porte alle forze presenti sul territorio e dai cittadini. Chiediamo all'amministrazione di Foriola soluzione dei nostri tanti problemi, ha sostenuto Mario D'Abbondo. E adesso invece parliamo della riunione ieri pomeriggio a Panza per mettere a punto le strategie del Comitato allargato ad ulteriori forze presenti sul territorio e dai cittadini. Ne abbiamo parlato con Mario D'Abbondo. Diciamo che è stato il primo incontro di questo direttivo, di questo allargamento del Comitato della frazione e aggacciandomi a quello che diceva Vito, se in tutto il territorio comunale vengono fuori, nascono dei comitati civici ci dobbiamo chiedere che c'è qualcosa che non funziona. E non funziona ma non è da qualche giorno che non funzionano le cose in questo paese, altrimenti non si sarebbe arrivato a tanto. Anzi, ci vorrebbero più comitati civici per come è la situazione attuale, perché il Comune di Fori è versa veramente in una situazione un po' generale, pietosa. Abbiamo cercato di strutturare un po' il Comitato, non è che abbiamo preso delle decisioni importanti, però la cosa più importante che abbiamo discusso già nelle altre serate è quella della ramificazione del Comitato su tutto il territorio della frazione. In effetti questo Comitato era nato solo per il problema dei rifiuti al campo sportivo e da qui è venuta forduta un'esigenza territoriale. Il Comitato ha coordinato un po' tutte le lamentie che sono arrivate da tutto il territorio, perché sembrava che fosse solo il problema al campo sportivo, l'abbandono del campo sportivo e quindi i rifiuti che venivano portati al campo sportivo, il problema. In effetti covavano sotto la cenere tanti altri problemi, tanti altri disagi che la cittadinanza di Panza subisce quotidianamente dall'amministrazione, ma questa è una storia un po' antica, non è che Forio voglio dire che sia meglio di Panza, però la frazione comunque è sempre un po' più abbandonata rispetto al territorio centrale del Comune. Quindi noi vogliamo sensibilizzare i cittadini anche a collaborare, questo è anche un aspetto nuovo che vogliamo divulgare alla gente, perché per quanto riguarda i problemi dei rifiuti il sindaco ogni volta che veniva nelle riunioni, sia a Forio che a Panza, alla fine la colpa non era della gestione, di questa gestione, e forse è meglio non parlare della gestione della Pegosa, della Torre di Salacena e così via, ma fosse colpa solo dei cittadini, praticamente come se tutti i cittadini di Forio e quindi di Panza fossero maleducati. Allora noi vogliamo anche collaborare, vogliamo divulgare questo messaggio anche ai cittadini, cioè di collaborare di più, ancora di più di quello che già la gente fa. Però la gente non è che poi può essere esasperata, nel senso che se alla fine non trova poi un riscontro da parte dell'amministrazione è logico che viene fuori la protesta, che viene fuori il cittadino scostumato. Inviteremo per questo il delegato all'NU, Enzo Di Maio, per trovare e studiare con lui delle strategie affinché il territorio, perché non è che noi vogliamo, il comitato vuole solo protestare, il comitato ha già dimostrato all'amministrazione di reggine di voler collaborare e in effetti abbiamo portato sempre al tavolo delle proposte concrete, serie, abbiamo portato delle soluzioni al sindaco, non è che siamo andati là, vogliamo questo, però non sappiamo come lo vogliamo, abbiamo detto anche quali erano le strategie, quali devono essere delle soluzioni, abbiamo portato delle soluzioni sia per l'asilo sia per i rifiuti, impegnandoci anche in prima persona di tasca per trovare delle aree affinché si trovasse una soluzione definitiva a questi problemi, ma diciamo a poco è valso, perché dietro tutto questo in effetti non c'è una volontà dell'amministrazione a risolvere i problemi. Grazie.